ben a tutti ragazzuoli benvenuti qui sul walkthrough la prima parte del walkthrough di dead facciola 3 no dead space 3 allora mi ha aperto mi cagare addosso come non male me dead space mi fa ovviamente cagare addosso quindi cominciamo la campagna in singolo a me c'è giocamo a impossibile no ma non le persone non mai pensavo che dobbiamo sbagliare un colpo vaffanculo gioco normale ah una cosa una cosa no che cazzo ho fatto che cazzo ho fatto non volevo cazzo ho fatto un po' la cosa io vabbè questa presentazione vabbè ovviamente è questa presentazione adesso so zitto un po' di più male nel campeletto dead space 3 ciao io sono alex farts e quando mi alleno vado in mezzo a tempesta di neve con un'armatura alfa 9 qui whisky 250 alfa 9 qui whisky 250 serrano mi ricevi non è pure ben capito cosa stiamo cercando tu segui la posizione importata non posso dirti altro cosa merda allora vediamo un po' la cosa impostazioni au che vuol dire volume musica volume voce sottotitoli sì sì io questo prima volevo fa allora un po' i puzzanti direzione navigatore mantieni rs così se corre così semena così se mira ah certo senza munizioni senza è normale dove devo andare tra 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 tim puoi farcela lui conta su di te e tu tu sei un soldato giusto certo l'arma non è neanche carica però tim non mi piace come nome ti chiamerò pippo vai pippo forza pippo dove andiamo a andare qui allora sento muovi qualcosa di strano che è o no che sia la grafica è proprio fatta bene cazzo mi sai dire ti faccio cagare per bene addosso cade quella roba che è? è sigillata guardati intorno tenetterci un modo e non sta zitto come guardi io vedi il ribito è racciacca di fagiola ricarica al stronzo ho ricaricato due volte non stiamo dire danneggia è scritto danneggia si dita le botte uguale non è bello io apro quando mi pare oddio tu che cazzo sei ciao caro come va? stai tutto bene? oh oh e si oh e che cazzo vuol dire continuare a camminare guarda se mi ammazzano queste adesso muori 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 mio caro dio ci sono lungo mezzo metro boh può essere anche qualche altra cosa tu che cazzo vuoi muori va Lì sono sicuro qui scappa fuori qualcuno guarda Mi puzza, mi puzza Oh lì c'è qualcosa di muore Muori, muori, muori Oddio Affanculo pezzo di merda pezzo Devi morire Oh e si Non corre, non corre Fammi ricaricare Che sento ancora le voci strane Oh 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 Do cazzo sei Che sto sti rumori Non c'è niente Mi sento le voci strane Questo non c'è un cazzo Da far venire qui Qualcosa di utile Sembra di no Sembra Apri Sì Non c'è Perfetta Ah questo intenderi con cilindro Oddio Paraculo eh Certo guarda La meglio cosa potevi fa Vai 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 Giù giù Corri Oddio Dove è passato Oh ma che è sto casino Con calma e sangue freddo Vaffanculo Va E mo Corri Oddio il motore Si 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 Il motore Si 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 Il motore Ruota Si 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 Il motore Fuggi 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 Va bene è successo niente Mettemola su sto piano Ma cazzo dove vado Oddio Vai motore vai Tutto tuo Vaffanculo Mamma mia che casino Cominciamo bene Cominciamo Bravo team Vedo che Tutto a posto è andato E-mail E-mail Vedo che Siamo andato Siamo andati Siamo andati Stati Siamo andati Siamo andati Siamo andati Beh Prima Adesso chi sei tu? salve baffetto baffetto nomad c'è una faccia da cazzo lì almeno è vivo, qualcuno è sano, è vivo mi ha detto di portare questa roba in città ha detto che possiamo fare in the space metodo film e ora dobbiamo fare il nostro dovere per il bene della terra e delle colonie sovrana ammi la terra figlio tua madre tuo padre sì signore, certo bene sono felice di sentire no vabbè non male io pensavo che era sano uno sano su dead space, sì, come no che cazzo fai? saluta la bandiera? oh, ecco, ecco perché salutavo la bandiera adesso l'ho capito guardi eliminati obiettivo sbocato, straniera, interna, straniera sembra il nome di un film di guerra americana fratelli e sorelle l'era dell'uomo c'è un cazzo tu 200 anni più tardi c'è isaac so che ci sei andiamo, rispondi eh, va bene sentimi ho chiamato solo per dirti che io mi dispiace tu abbi cura di te va bene? eh, certo curaccio dopo quello che ha passato no, incazzate, incazzate fuck this shit oh le porte si aprono da sole fotti io tanto 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 chi cazzo è questo? ecco era difficile, cioè, parlare a noi che diavolo siete voi? sa noi Sì, tiralo su, su! No, 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 no Per cui sarò breve Mi hanno detto che tu sei una specie di esperto nel campo dei marchi Mi hai creato uno Mi hanno costretto È stato il vostro governo E ne hai distrutti due, è per questo che siamo qui Abbiamo un lavoro No Come oggi No Sono stanco Trovate qualche altro volontario suicida L'abbiamo fatto Prima di perdere il contatto con lei Ci ha detto di cercare È lì Dove? Che l'avete fatta? Ditemi dov'è Gli unitologisti sono entrati nella sala interna Nessuno li ferma Capitano, non c'è più tempo, muoviamoci Là fuori solo Dove no? Oh, qui si scopre tutto Ok Ok Questa calmo Andiamo Ah, mamma mia Che pistolone mi hanno dato Non ci ammazzo manco un ragno dal buco Non ci ammazzo con questa pistola Capitolo 1 Un brusco di sveglio Appartamento di Isaac E qui finisce la prima parte Del walk through the air Del walk through the air Di Dead Space 3 Vi invito a lasciare un mi piace Condividere i raggiunti preferiti E magari iscrivervi a Rattic Gaming Per altre mila volanti avventure Di Dead su Dead Space 3 Allora, prossimo episodio Bella ragazzuoli Allora, prossimo episodio